E' una storia lunga, per il momento posso dirti che abbiamo due fermati in ospedale, tali Lepre e Maggiorana. A causa del decesso? Ha il cranio fracassato dai colpi di una vanga e come se non bastasse le hanno anche sparato. Se da per caso conoscete un certo Antonio Lepre? E' stato il fidanzato di nostra figlia per un paio d'anni. Amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, amore mio, che cazzo pavola? Grazie per averci ridato i nostri figli. Uno di qua, uno di qua. Dai, 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 dai! Mi lasci in pace? Io sono te. E tu hai solo me. Hai capito o no? Signor Lolli, io non vorrei mancare di rispetto, ma... Lei non ci sta fornendo nessuna prova. Ma io non sono mica un poliziotto. Io sono solo un padre disperato. Le scifere morti che camminano! Spaccagliela! Spaccagliela questa pezza! Lo sai quanti cani vedrai in sei metri quadri di cello, Don Antonio? Spaccagliela questa pezza! Stai per le maci vedai in voi. Sì, 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 sì.